E' un piacere grande accompagnare il presidente Gabriele Marchionni della Synergy Basket e Valdarno perché oggi è la festa di questa importante società, tantissimo entusiasmo, tanti ragazzi, le prime squadre ormai pronte per i campionati. Insomma, presidente, anche quest'anno avete fatto le cose in grande stile confermando la bontà del progetto Synergy, possiamo dire così? Sì, non c'è dubbio. Oggi infatti, diciamo, celebriamo come da tradizione ormai da diversi anni l'inizio della nuova stagione sportiva, del nuovo anno sportivo e quindi stasera è l'occasione qui nel Palazzetto Comunale per presentare tutte le squadre, sia femminili che maschili, del settore giovanile, del settore senior e anche in particolare i nostri progetti sociali, li definiamo così. Ci sarà anche qualche novità, presenteremo, anzi la posso già anticipare, noi oltre che fare i campionati e partecipare a, abbiamo 17 squadre quest'anno, sia di bambini che di giovani e senior, oltre che partecipare a campionati federali, abbiamo da qualche anno organizzato due progetti speciali, uno è Special Synergy, stasera la presenteremo, l'altro è il progetto Synergy for Inclusion. Gino Vannelli, una serata fantastica nel segno della Synergy, un amore che non finisce mai, ma quante ragazze avete Gino? Non lo so nemmeno, tantissimi, tantissimi, tantissimi e quindi si fa fatica anche a contarli davvero, per cui è una soddisfazione, no grande, di più, immensa. Naturalmente i giovani, grandi protagonisti con un parco anche di tecnici di primo livello, come sempre. Sì, 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 devo essere sincero, abbiamo avuto la fortuna anche quest'anno di avere un sacco di ragazzi che sono venuti a darci una mano, istruttori bravi, istruttori veramente che meritano di scendere in campo con ragazzi, perché insegnare a ragazzi non è facile e quindi loro lo fanno con una passione incredibile e con, diciamo, anche una tecnica non indifferente. Quindi grazie davvero a tutti i ragazzi che ci danno una mano.